ciao ragazzi ciao ragazze oggi nuova ricetta oggi proverò a fare una torta da solo camera me la manda allora prendi io ti dico allora sai cosa fare? allora prendo la farina cosa fai Sara? prendo la farina no niente farina devi prendere le due uova già stava sbagliando ragazzi meno male che vuoi fare il pasticciere non è che devi mettere dentro anche il guscio e devi mettere dentro solo il piano anche se no si ok metti qua pure sul tavolo scusate la prima emozione poi devi prendere lo zucchero che è questo qua mica che metta dentro qualche polverina strana poi devi mescolare con il cucchiaio le capentole però alcuni la chiamano la marisa non so si vede che non so perché la chiamano marisa mescola bene deve venire una consistenza ma chi è marisa? io ho sentito la benedetta rossa ma no perché praticamente si vede che quella che l'ha inventata si chiamava marisa perché non vedo altre ragioni per cui abbiano chiamato marisa ma io le chiamo le capentole poi bruno frena perché è bello allora ti devi mettere questo ok questo e l'olio si ecco la Sara si è vista la lingua della Sara bisogna assaggiare del secondo si con la lingua vai vai mescola sembra una cosa schifosa ma fa così metta a fuoco ah scusa non lo sapevo non faccio il cameraman io di solito faccio l'attrice no non faccio l'attrice questa è la mia cucina poi faremo un'altra ricetta signor deve mettere questo sì ma devi toglierlo non è non mettere il tappo dentro nella nell'impasto ecco perfetto bravo e adesso mettilo tutto sbattilo perché sennò non viene giù sbatti quello è l'aroma cos'è la roma arancia si mescola 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 bene aggiungi l'acqua bicchiere d'acqua così viene meno meno calorica del del latte senti che profumino di arancia adesso ci devi mettere il cacao amaro dopo vi mettiamo nel primo commento nei commenti mettiamo tutte le dosi come ho fatto con i biscotti adesso devi fare bene 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 devi amalgamare bene 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 no ma anche i bordi ecco devi prendere i bordi prossima volta prendiamo il cappello da pasticcere il cappello da cuoco e alla omai c'è la domodossola la domo ok ancora nei nei bordi anche il bordo di lì adesso metti la farina non tutta insieme ma un po alla volta ok ecco mescola mescola per non fare grumi mescola bene mescola anche ai bordi mi raccomando i bordi vediamo il sudore della fronte di bruno non ha nessuna fronte non ha nessuna fronte è nato senza fronte bruno vedo lì che c'è ancora un po di farina nel bordo ricordati i bordi ancora un po di farina metti domani c'è da domani c'è da domani c'è morning news ma io ho visto che ma quando da domani ho capito ma quando al mattino sì ma se c'è ancora pomeriggio c'è mattino 5 no da domani ma sei sicuro questa è l'ultima puntata e come mai la fanno l'ultima puntata di martedì e non di no di martedì parte domani mercoledì bruno